Una linea creata dai nostri laboratori per assistere e curare il capello a 360 grammi, risolvendo ogni criticità, secchezza, doppie punte, danni e rottura. Una linea che è al contempo idratante, nutriente e ristrutturante. Quattro prodotti shampoo, maschera, olio ristrutturante e mozione ristrutturante prepiega con i quali creare tre differenti servizi fast restoring, deep restoring ed intense restoring. Per un approfondimento su questi tre trattamenti vi rimando agli altri video realizzati da noi che potete trovare sui nostri canali social. Uno shampoo con tensi attivi fortemente delicati, in grado di detergere senza aggredire la struttura. Quindi utilissimo sui capelli come i decolorati dove anche un minimo accenno di criticità, uno shampoo troppo aggressivo potrebbe provocare delle rotture. Maschera in test restoring con cheratina, delle proteine di grandi dimensioni in grado di avvolgere il capello riparando nello strato cuticolare, quindi maggiore pettinabilità e maggiore brillantezza, chiusura della doppia punta. Olio riparatore in test restoring, un prodotto che nutre il capello in profondità apportando cheratina, la proteina strutturale del capello e quindi formando nuovi mattoni unitamente all'azione idratante di olio di macadamia e olio di organo. Ed infine un elisir di meraviglia, Intense Restoring Lozione Restrutturante, un prodotto da applicare sul capello umido prima di asciugare, composto da un mix di oli idratanti capaci di donare una morbidezza e una lucentezza mai rinnovata prima ai vostri capelli.